...di questo libro, Mondo Logistico, Sguardi Critici su Lavoro, Migrazioni, Politica e Globalizzazione, che è un testo che abbiamo curato io e Irene Peano. È un libro, come vedete, abbastanza agile, che in qualche modo nasce con l'idea di portare, diciamo così, nel dibattito anche italiano, quelli che sono i temi che nel dibattito internazionale, ormai in realtà da un po' di anni si stanno sviluppando, di un'analisi, diciamo così, critica della logistica, o meglio ancora, di un uso della logistica per un'analisi critica sul nostro presente, sulle forme, diciamo così, del capitalismo contemporaneo. Dicevo, nel dibattito internazionale in realtà appunto c'è una proliferazione negli ultimi anni di scritti che provengono sostanzialmente da varie discipline che appunto adottano la logistica come prospettiva utile per indagare e criticare il presente. Detto nella maniera, diciamo così, più semplice possibile, quando parliamo di logistica, parliamo sostanzialmente di quel settore della movimentazione delle merci che in qualche modo oggi si definisce su una scala sempre più planetaria da un lato. Dall'altro, quando parliamo di logistica, parliamo anche di come la produzione stessa di oggi sia sempre più in qualche modo organizzata attraverso un paradigma di tipo logistico. Quindi come in qualche modo proprio sia le forme di produzione che le forme di distribuzione adottino questa ottica logistica, quindi di un movimento, di uno spostamento su spazzalità sempre più ampia e tendenzialmente planetaria e come appunto questa logica in qualche modo della mobilità incessante e ininterrotta sia sempre più un paradigma centrale per comprendere il presente. La copertina del libro, come potete vedere, in qualche modo ci dà un'idea di quello che può essere un'immagine del mondo d'oggi. Quindi questi continenti, quindi diciamo il pianeta in cui questi continenti sono neri, potremmo interpretarli come quasi delle grandi piattaforme infrastrutturali interconnesse da questi flussi che possono essere marittimi o aerei che appunto continuamente, incessantemente si muovono e fanno, potremmo quasi dire, ruotare il globo. Una breve considerazione, poi mi inoltre un po' più in alcuni contributi del libro per passare anche velocemente la parola, una breve considerazione, dicevo, sul fatto che mi pare di poter dire che in questo momento ci sono alcuni, come dire, correnti di sottofondo, alcune tensioni, alcune tendenze che pur da prospettive molto differenti, in realtà stanno puntando su una stessa questione, su una stessa dinamica. La logistica, lo studio sulla logistica è uno di queste. Il discorso sull'urbanizzazione planetaria, sulla cosiddetta epoca urbana è un'altra e quindi anche in quel, come dire, in quel tipo di riflessione si trovano molte cartografie e rappresentazioni simili, quindi questa idea di un mondo totalmente interconnesso, totalmente infrastrutturato, continuamente in movimento e in qualche modo anche il terreno dell'ecologia politica punta, ripropone, diciamo così, un'immagine di questo tipo. Quindi guardare un sistema planetario con il suo metabolismo, con i suoi spostamenti come appunto terreno per comprendere quello che è il mondo d'oggi, la realtà attuale, chiaramente poi tra la comprensione e una possibilità critica, una possibilità anche di analisi sulla soggettività che dentro questi panorami emergenti si definisce, chiaramente è un terreno di inchiesta, di teoria, ancora tutto da costruire, di cui magari si possono però iniziare a tracciare alcune abbozze, alcune prospettive. Nel libro, ripeto, l'idea era anche un po' di offrire, diciamo così, al pubblico italiano, mettiamola così, una panoramica, un sorvolo su un po' delle riflessioni che abbiamo valutato come più interessanti di un uso critico della logistica. Nel libro c'è un'intervista a Deborah Cowen, che è una geografa canadese che è stato uno dei, come dire, nomi più significativi in questo dibattito globale sulla logistica, che ha prodotto una riflessione in cui il tema delle infrastrutture, delle infrastrutture globali, in qualche modo, è diventato un terreno di analisi politica. Quando ha scritto i suoi libri, i suoi primi libri sul tema, ancora non si parlava tanto di, non si conosceva quasi, era in realtà, come dire, in gestazione il grande progetto, ormai abbastanza famoso, nel senso che è su tutti i giornali delle nuove e della seta, queste grandi, enormi infrastrutture continentali che via terra o via mare connettono la Cina all'Europa, che è uno degli esempi, diciamo così, più calzanti di cosa vuol dire logistica oggi. Quindi questi grandi processi infrastrutturali, di spostamento a merci, ma anche processi politici che attraversano i confini, definiscono nuove sovranità e al contempo intervengono dentro le singole sovranità. Ecco, quindi c'è un'intervista in cui questi temi vengono approfonditi più nello specifico. Sempre su questo aspetto, diciamo così, delle infrastrutture, c'è un altro articolo di Mattia Frapporti che invece, in termini più storici, mostra, come dire, un'altra storia possibile potremmo definirla così dell'Unione Europea. Nella, come dire, nella stereografia ma anche sui giornali si tende a pensare l'Unione Europea come un'entità politica costruita per certi, come dire, passaggi, trattati vari nella seconda guerra mondiale. Ecco, Mattia nel suo articolo dice, attenzione, che se invece guardiamo politicamente a cosa sono le infrastrutture, in particolare lui si concentra sulle ferrovie, ci rendiamo conto che in realtà innuce un un progetto, come dire, di Unione Europea intesa come uno spazio continentale che ha una sua, appunto, unità politica determinata da queste grandi infrastrutture che appunto attraversano i confini che possono unire la Francia, l'Italia, la Germania e dice, guardiamo lì dentro, guardiamo come queste infrastrutture sono state costruite e capiamo che c'è qualcosa di estremamente politico in questo tipo di progetti. L'ultima cosa che dico è un commento, diciamo così, sulla postfazione al libro che hanno fatto Brett Nielsen, che insieme a Sandro Mezzadra è un'altra, diciamo così, delle voci significative del dibattito internazionale sulla logistica e Giorgio Grappi che ha scritto un altro libro, insomma, che mi sento di consigliare per chi fosse interessato alla logistica, che si chiama appunto Logistica, che se vogliamo è un tentativo abbastanza sistematico di riflettere su questo tema, uscito due o tre anni fa, e nella loro postfazione mettono in rilievo quello che mi sembra una condizione, una caratteristica, diciamo così, politica importante. Nielsen e Grappi ci dicono che guardare il mondo attraverso la logistica è anche uno strumento, un esercizio utile politicamente perché consente in qualche modo di mettere a critica quello che è un po' il campo politico, potremmo dirlo mainstream o gemone oggi, mi spiego in parole più semplici. C'è la tendenza oggi, se guardiamo il dibattito politico contemporaneo, ad avere sostanzialmente due poli. Il polo dei cosiddetti sovranismi, che con varie declinazioni, siano esse populismo, più di destra, più di sinistra, eccetera, eccetera, però da un lato quindi chi dice oggi bisogna tornare allo Stato, alla sua unità, ai suoi difesi, ai suoi confini, alla sua omogeneità come tendenza politica, come prassi politica, ripeto, con le varie sfaccettature che ha questo tipo di posizione politica e dall'altro chi invece propone un rilancio alla globalizzazione dove però globalizzazione ha sempre una caratterizzazione, diciamo così, di tipo, se vogliamo, neoliberista o comunque una globalizzazione di tipo finanziario, di tipo appunto commerciale e quindi le grandi catene del valore globale, eccetera. Ecco, quello che ci propongono come spunto di dibattito nella postfazione di questi due autori è invece il come, se guardiamo attraverso appunto la logistica, questa dicotomia tende invece a rivelarci un po' fallace. Tra chi si fa appunto portatore di un'ipotesi del rilancio dello Stato, dello Stato nazionale, chi invece si fa portatore, usano una categoria, un'idea, un'immagine di Deborah Cowen ancora, dei sovranisti invece della supply chain, quindi di chi, come dire, politicamente investe su questa globalizzazione liberale, dice guardate che in realtà se guardiamo questa dicotomia funziona molto assieme. Appunto in qualche modo una dicotomia nel senso che però sta assieme, che descrive un medesimo campo. E qui in qualche modo si apre, chiudo, quello che forse per noi che abbiamo curato il libro e penso un po' per tutti gli autori, le autrici che hanno scritto dei test nel libro, qui si apre il campo invece di sperimentazione politica più interessante, ossia cosa può significare, cosa può voler dire oggi un'immaginazione politica, una prassi politica che possa, ripeto, andare oltre e contro queste due immagini di una politica globale, di una politica planetaria, però appunto pensando il globale e il planetario, sia contro, se vogliamo così, un ritorno allo Stato, sia contro questa dimensione delle catene globale del valore, ecco, contro queste ipotesi, forse guardando attraverso la logistica, in senso diciamo critico, se vogliamo, in senso contrologistico, o di una logistica delle lotte, dei conflitti, dei movimenti, può essere invece una direzione di ricerca, sia teorica che politica, interessante. Passo la parola a Irene. Sì, rispetto a questa questione delle dicotomie, che non si escludono a vicenda, mi riallaccio anche al lavoro di traduzione che ho fatto su questo articolo di Anna Zing, che è un'antropologa statunitense, i cui lavori appunto hanno toccato in maniera più o meno, dire, diretta, la questione della logistica, delle catene globali del valore, quello, il testo che abbiamo scelto di tradurre, si occupa del concetto di commensurabilità, di scalabilità, che è una delle operazioni centrali poi della logistica in quanto operazione, nel senso che appunto lei traccia poi una genealogia molto profonda di queste operazioni che lei chiama operazioni di scalabilità, e cioè di, come dire, operazioni attraverso cui si rendono compatibili diversi elementi tra cui appunto gli esseri viventi stessi a un progetto di valorizzazione, quello che poi in termini logistici potrebbe essere definito come intermodalità in qualche modo, no? E lei traccia questa genealogia che parte dalle prime piantagioni di canna da zucchero di cui appunto i portoghesi furono tra i pionieri insieme, tra l'altro anche ai genovesi e veneziani, una storia spesso dimenticata anche questa. Comunque appunto ci è sembrato interessante ragionare di questo tipo di operazione interna alla razionalità logistica che poi appunto lei in realtà dice nel testo occorre una teoria della non scalabilità, occorre riprendere appunto ciò che non è commensurabile come appunto un'alternativa possibile alla logistica contemporanea e a tutte le sue, come dire, tutto il suo portato anche di violenza e di distruzione, cioè di tutto ciò che si lascia alle spalle appunto in termini di resti, di macerie e di violenza. In questo senso, Anna Zing tra l'altro appunto ha elaborato anche un concetto a cui mi rifaccio per riallacciarmi a quello che diceva Nicolò rispetto alle frizioni che non sono contraddizioni, alle dicotomie che non sono necessariamente escludenti perché appunto lei dice l'attrito, la frizione, quello che lei chiama friction, è qualche cosa di produttivo, cioè in realtà appunto è proprio sulla differenza che si innesta, come dire, un'operazione di messa a profitto in qualche modo, cioè è su questo terreno che appunto la logistica in qualche modo crea valore. E un'altra forse possibile, come dire, pista o comunque, come dire, tentativo di sviluppare delle alternative alla violenza della logistica contemporanea è quello che fa Deborah Cowan quando dice occorre, come dire, provare a rendere la logistica queer, no? Quindi nell'ultimo capitolo di questo suo libro, che si occupa proprio di come la dimensione militare attraverso la logistica diventa parte integrante della dimensione commerciale e civile e diciamo in maniera forse un po' fumosa però prova appunto a dire precisamente che occorre in qualche modo elaborare un'alternativa a questo sistema che non necessariamente, diciamo, esclude la logistica a priori ma che la trasforma e la rende un qualche cosa di diverso e mi riallaccio appunto anche a questo ragionamento di Cowan per parlare brevemente anche del contributo che ho scritto che tende, cioè che prova a tenere insieme le operazioni che la logistica compie all'interno delle catene globali dell'agroindustria con il lavoro riproduttivo e quindi la dimensione appunto riproduttiva e quindi la dimensione di genere che necessariamente accompagna queste riorganizzazioni della produzione e della circolazione delle merci in particolare guardando agli spazi di vita dei lavoratori e delle lavoratrici che poi sono impiegati all'interno delle catene dell'agroindustria in particolare in diverse enclavi produttive italiane nel testo parlo in particolare di Rosarno dove appunto traggo spunto dal tragico evento della morte di una donna che è stato anche come dire mediatizzato e amplificato ricorderete forse appunto il nome di Becky Moses e quindi cerco appunto di rintracciare anche questa dimensione che molto spesso non viene messa a tema non viene analizzata di ciò che sono le catene globali del valore che si muovono ed esistono e si riproducono anche grazie a un lavoro di cura affettivo che viene svolto in maniera diciamo preponderante dalle donne nel caso appunto degli insediamenti di lavoratori dell'agroindustria parliamo essenzialmente di lavoro sessuale di prostituzione ma non solo e di come appunto diciamo questo tipo di di attività e di lavoro riproduttivo sia mutato in concomitanza con il mutare delle catene globali del valore e cioè con lo svilupparsi diciamo di un sistema produttivo dell'agroindustria che è il frutto di una riorganizzazione in senso logistico che quindi non ha più come sua diciamo figura centrale quella dell'azienda agricola ma piuttosto appunto quella della catena e quindi della dominazione della grande distribuzione per il resto forse appunto lascerei la parola a altri due degli autori che hanno contribuito a questo libro che ci possono dire direttamente dalla loro viva voce ci possono raccontare appunto dei loro contributi aggiungo solo una cosa che mi sono scatto di dire prima è che il libro è uscito all'interno di una collana che si chiama Orisma o Orisma non lo so abbiamo qui Alessandro che è uno dei senaldi che è uno dei curatori gestorista collana che insomma è una collana che tendenzialmente mira a proporre e produrre diciamo così dei testi soprattutto pensati per diciamo così ricercatori e ricercatrici che magari in questo spazio possono trovare anche una maggiore libertà diciamo così e semplicità se vogliamo anche da un certo punto di vista in senso positivo di esprimere una serie di riflessioni che magari in altri ambiti diciamo così di pubblicazione vengono spesso più complicati diciamo così quindi insomma era un ringraziamento ad Alessandro per averci insomma coinvolto in questo progetto e passerei la parola a Mauriglio Pirone che che all'interno del libro ha scritto un capitolo intitolato il mondo in un click piattaforme digitali nuova logistica metropolitana e fine del lavoro e che insomma insieme a me e anche Mattia frapporte che sono in libro e altri altri facciamo anche parte di questo progetto diciamo così di ricerca collettiva chiamato into the black box che proprio insomma a partire dai temi della logistica ha iniziato un percorso appunto di ricerca collettiva sì come diceva Niccolò un po' il mio contributo si concentra sul tema della logistica metropolitana quindi sceglie uno dei diversi ambiti di sviluppo di articolazione della logistica e diciamo che dietro un po' questo contributo ci sono essenzialmente due cose da una parte c'è un percorso come diceva Niccolò di ricerca collettiva che è iniziato con into the black box che poi ha avuto diverse evoluzioni insomma anche un po' trovato spazio in un progetto europeo però si è sempre concentrato sull'idea della logistica come lente attraverso la quale leggere una serie di processi una serie di trasformazioni in corso all'interno del mondo contemporaneo quindi una lente che si focalizza sui flussi ma anche sui punti di rottura sui colli di bottiglia e quindi una lente diciamo così che mette al centro la dinamicità piuttosto che la staticità delle trasformazioni in corso e oltre diciamo così a questo approccio collettivo di ricerca collettiva dall'altra naturalmente c'è dietro anche una riflessione un'attenzione una partecipazione una serie di mobilitazioni di lotte concrete all'interno degli spazi metropolitani attorno appunto al tema della logistica urbana in questo caso soprattutto la mia esperienza è quella delle lotte dei riders a partire quindi da una combinazione di riflessioni teoriche ed esperienze pratiche di mobilitazione questo contributo prova un po' a capire come si sta trasformando la logistica metropolitana naturalmente quando parliamo di logistica metropolitana detto in maniera molto generica parliamo dell'organizzazione dei flussi di merci e persone all'interno della città con tutta la problematicità che può avere la definizione di spazio urbano soprattutto nella contemporaneità e prova a capire come questi flussi si stanno ridefinendo a partire da una serie di trasformazioni di novità nello specifico l'articolo si concentra sull'impatto che hanno le piattaforme digitali quindi nuove tipologie di aziende probabilmente le piattaforme non si definirebbero in questo modo io le definisco in questo modo poi non solo io però insomma vengono definite in questo modo e il modo in cui tra l'altro si cerca di vedere come poi ridefiniscono appunto la circolazione di merci e persone all'interno della città e quindi viene proposta diciamo così un approccio metodologico che vede insomma in campo tre elementi nella definizione della logistica di una nuova logistica metropolitana da una parte le piattaforme dall'altra la città e terzo elemento il lavoro da una parte quindi la città possiamo vederla come uno spazio di servizi insieme sia di produzione che di consumo di questi servizi servizi che variano possono andare da servizi appunto di trasporto ok quindi pensiamo a piattaforme come Uber a servizi di consegna pasti a domicilio quindi pensiamo a piattaforme come Deliveroo a servizi di hosting di accoglienza pensiamo ad Airbnb e via dicendo ci sono servizi di pulizia servizi di montaggio smontaggio mobili è comunque uno dei settori all'interno del quale il capitalismo contemporaneo soprattutto dopo la crisi del 2009 ha iniziato 2007 2008 ha iniziato a investire anche a livello finanziario oltre che a livello di sviluppo di impiego di nuove tecnologie digitali e quindi la logistica metropolitana che si viene a definire ha sempre più un carattere just in time e to the point cioè deve essere immediata il più possibile quindi comprimere spazi e tempi e to the point cioè arrivare direttamente alle case dei consumatori dall'altra insomma l'altro elemento che determina un po' questa nuova logistica metropolitana appunto sono le piattaforme quindi queste nuove forme di aziende cosiddette lean cioè snelle che trovano nell'applicazione di tecnologie digitali appunto un fattore determinante nella riorganizzazione del processo produttivo tutti abbiamo uno smartphone e questo smartphone molto spesso permette l'organizzazione sia del consumo che del lavoro chi lavora molto spesso lo fa utilizzando un telefono cellulare al massimo aggiunge a questo una mail sono aziende che in molti casi hanno un personale interno veramente molto esiguo Airbnb più o meno in Italia avrà sui 70 80 lavoratori non di più aziende come Deliveroo Globe e via dicendo ne hanno molti molti di meno e riescono a gestire dei servizi sul territorio in maniera deterritorializzata cioè senza essere presenti sul territorio non esiste in sé un ufficio di Airbnb sulla città non esiste uno sportello non esiste più uno sportello rider di Deliveroo nella città cosa fa però la piattaforma riorganizza i flussi produttivi e di consumo all'interno della città e quindi nell'articolo ripropongo un po' l'immagine del putting out system cioè di un'idea preindustriale dell'organizzazione del lavoro all'interno del quale c'era una diffusione territoriale di punti di produzione di piccoli produttori con il ruolo dei mercanti che era appunto quello di riunire di fare da collante fra la produzione e poi i mercati il consumo questo ruolo è svolto adesso dalle piattaforme che a differenza però del putting out system hanno un elemento in più cioè la pervasività del controllo i nuovi sistemi di geolocalizzazione il gps del telefono così come le applicazioni permettono un controllo costante del processo produttivo dei consumi una piattaforma può sapere dove si trova un rider quali appartamenti hai visionato sopra Airbnb qual è il punto più vicino per andare da dove ci si trova al punto dove deve arrivare il taxi di Uber terzo elemento che insomma inserivo all'interno di questo processo è appunto quello del lavoro come soggettività del lavoro quello che viene presentato dalle piattaforme è la possibilità a tutti di diventare imprenditori di se stessi questa non è naturalmente una novità l'ideologia dell'imprenditore di se stessa insomma di se stesso ha una genesi molto lunga degli anni 80 e trova però all'interno dello spazio urbano un'applicazione molto concreta quindi tutti possono diventare imprenditori di se stessi in che modo valorizzando quello che era l'altro corno dell'ideologia liberale degli anni 80 c'è l'individuo proprietario ognuno di noi ha una macchina può avere una macchina una casa una bicicletta semplicemente anche degli strumenti di pulizia e può trasformarli da beni di consumo in asset cioè in beni di produzione e quindi può diventare un rider un autista un piccolo albergatore tutti possono diventare le piattaforme si pongono in questa maniera noi non siamo dei datori di lavoro classici noi siamo uno spazio per la valorizzazione di di chiunque voglia entrare all'interno di quella dimensione c'è quindi un rapporto trilaterale di continua codificazione e decodificazione dei ruoli la città viene eletta in un modo dalle piattaforme viene assorbita in un certo modo dalle piattaforme i city users e gli abitanti residenti della città vengono trasformati dalla piattaforma vengono codificati come imprenditori urbani ad esempio e dall'altra parte c'è un modo di stare all'interno delle piattaforme le piattaforme non partono da zero c'è sempre un pre che è nella città e quindi abitano la città adattandosi a quella che è la città qual è il punto e qui chiudo questo non è un processo unilaterale cioè se da una parte ad esempio le piattaforme giocano un ruolo determinante nel ridefinire la logistica metropolitana il processo di codificazione non è un processo piatto unidirezionale ci sono anche altri modi di decodificare le trasformazioni in corso e ad esempio le lotte dei rider così come i comitati di resistenza all'espansione di Airbnb nelle città ne sono un esempio perché leggono gli stessi processi in una maniera differente lo spazio urbano diventa uno spazio di contesa non solo economica ma anche politica sociale all'interno di una serie di trasformazioni le piattaforme non sono più degli spazi neutri di valorizzazione ma diventano delle scatole nere da aprire da decriptare perché il processo di decodificazione è gestito dall'alto e allo stesso modo quegli imprenditori urbani invece si riscoprono all'interno di un rapporto conflittuale capitale lavoro che è diverso da un rapporto capitale lavoro come poteva essere quello ad esempio della fabbrica ma che viene riscoperto come un processo verticale un processo anche di contestazione al potere delle piattaforme passere la parola a Sandro Mezzadra che nel libro ha scritto un contributo dal titolo Logistica Mobilità e Migrazioni un'agenda emergente per la ricerca sulle migrazioni punto interrogativo intanto qualche parola sul libro nel suo insieme che è effettivamente importante perché introduce nel dibattito italiano due voci particolarmente autorevoli nel dibattito internazionale sulla logistica quella di Deborah Cowen e quella di Anna Zing è un libro certamente sulla logistica ma è anche qualcosa di più è come già si è detto un libro che assume la logistica come lente per analizzare un insieme di processi e di fenomeni sociali e politici estremamente importante in questo libro è la questione della riproduzione sociale che è ad esempio al centro dell'analisi svolta da Irene non è scontato guardare alla riproduzione sociale dal punto di vista della logistica e io credo che questo libro mostri che è estremamente produttivo la logistica come lente dunque la mobilità come lente la mobilità e anche i blocchi le ostruzioni alla mobilità le geografie della mobilità la produzione di spazi attraverso la logistica e l'assegnazione di corpi a questi spazi ancora da questo punto di vista il contributo di Irene è particolarmente efficace la logistica è anche già il titolo il sottotitolo del libro lo suggerisce un punto di vista particolarmente efficace sulla globalizzazione quel grande tema della globalizzazione che da almeno trent'anni è al centro dei dibattiti e delle retoriche politiche sociologiche culturali fin dal principio del dibattito sulla globalizzazione un'importanza particolare è stata assegnata ai flussi e attorno alla centralità dei flussi sono nati secondo me anche molti fraintendimenti molti equivoci sulla globalizzazione è chiaro che anche la logistica ci propone la centralità dei flussi ma ci propone la centralità dei flussi dal punto di vista del loro radicamento della loro articolazione dal punto di vista dei canali che striano la terra e che producono dunque geografie tutt'altro che piatte contrariamente a quanto si è spesso pensato a proposito dei flussi la logistica ci consente di guardare alla globalizzazione dal punto di vista di quello che possiamo chiamare il suo scheletro quell'insieme di infrastrutture di pipeline di corridoi di zone di hub che definiscono appunto lo scheletro della globalizzazione e se assumiamo questo punto di vista è abbastanza evidente che in questi ultimi decenni è stata raggiunta una soglia di non ritorno nei processi di globalizzazione c'è qualcosa di irreversibile in questi processi lo scheletro della globalizzazione non può essere rottamato dalle politiche di Trump per dire dai dazzi di Trump c'è dunque un elemento di irreversibilità estremamente importante estremamente importante anche per ragionare su quella questione del sovranismo su cui richiamava l'attenzione Nicolò prima rinviando alla postfazione di Giorgio Grappi e di Brett Nilsson evidentemente sono possibili molteplici combinazioni tra questa globalizzazione tra questa logistica della globalizzazione e il sovranismo e lo Stato sovrano credo però che sia importante tenere a mente che ci sono anche degli attriti potenziali molto forti tra la razionalità logistica che è oggi la razionalità della globalizzazione capitalistica e la forma dello Stato sovrano questi attriti emergono in modo particolarmente chiaro se guardiamo non tanto alla mobilità delle merci a cui molto spesso si riduce l'analisi della logistica quanto alla mobilità umana alle migrazioni e il tentativo che ho fatto nel mio contributo a questo libro è quello di guardare proprio alle migrazioni dal punto di vista della logistica e per essere molto rapido la tesi generale che propongo in questo articolo è che effettivamente negli ultimi 15-20 anni abbiamo assistito su scala globale in particolare in Europa a un progressivo processo di logistificazione del governo delle migrazioni e dei confini pensate ad esempio a come si chiama l'approccio che l'Unione Europea ha sviluppato all'indomani della lunga estate delle migrazioni nel 2015 approccio hotspot se leggete i documenti della Commissione Europea che definiscono l'approccio hotspot vi trovate di fronte a un linguaggio che è in buona parte un linguaggio logistico un linguaggio che è costituito da termini come corridoi come zone come hotspot appunto e mi sembra un sintomo particolarmente significativo ma poi studiando ormai da diversi anni le teorie e le pratiche di quello che viene definito migration management il management delle migrazioni mi è pazzo di poter affermare che da questa letteratura emerge una sorta di ideale che è uso gli stessi termini che ha usato Mauriglio prima una migrazione just in time e to the point una migrazione cioè la cui temporalità corrisponde il più direttamente possibile alle esigenze del mercato del lavoro della cosiddetta società ospitante e le cui direzioni spaziali sono sincronizzate logisticamente con la domanda di lavoro migrante just in time to the point amazon nel momento in cui ordinate un libro tramite amazon lo volete avere nel più breve tempo possibile nel punto in cui vi trovate in quel momento quindi una sorta di razionalità delivery applicata alle migrazioni bene voi vi rendete conto che questa è una razionalità di governo delle migrazioni piuttosto diversa rispetto a quella invocata dai sovranisti come Salvini perché non prevede il blocco della migrazione e la fortificazione dei confini prevede forme di mobilità selettiva gerarchizzata flessibile a me è capitato tre anni fa di lavorare in Germania a un progetto di ricerca sul modo in cui in Germania sono stati predisposti dei dispositivi sono state predisposte delle politiche per mettere al lavoro il milione di migranti essenzialmente siriani che sono arrivati in quel paese tra il 2015 e il 2016 abbiamo dimostrato che quei programmi quei dispositivi quelle politiche erano interamente condizionati da una razionalità logistica da quella razionalità just in time to the point che veniva implementata attraverso una rete di agenzie che svolgevano la funzione logistica dell'intermediazione dell'incontro tra lavoro migrante e capitale quindi una esemplificazione molto precisa e anche molto importante della razionalità logistica nel governo della mobilità umana della migrazione queste politiche hanno avuto un successo clamoroso hanno messo al lavoro oltre il 70% del milione di profughi arrivati tra il 2015 e il 2016 hanno avuto un successo clamoroso dal punto di vista del governo dal punto di vista dell'amministrazione dal punto di vista degli attori capitalistici che avevano fatto pressione sul governo perché adottasse quel tipo di politiche bene qual è il problema il problema è che attualmente in Germania queste politiche sono violentemente sotto attacco da parte della destra da parte di alternative für Deutschland ma anche di una consistente componente della democrazia cristiana tedesca e lo stesso governo è stato in qualche modo costretto a fare marcia indietro rispetto a quelle politiche a me pare che sia una buona illustrazione di quelli che definivo prima attriti tra una razionalità logistica e perlomeno alcune declinazioni specifiche del nazionalismo mi sembra che sia un tema su cui vale la pena ragionare e discutere quel che riguarda l'alternativa globalizzazione sovranismo chiudo richiamando un ultimo punto che mi è sembrato particolarmente interessante nell'intervista a Deborah Cowen è un punto che riguarda le lotte che hanno caratterizzato lo sviluppo della logistica negli ultimi anni lotte metropolitane come quelle dei rider di cui parlava Mauriglio lotte dei facchini come quelle che abbiamo visto in questi anni anche attorno a Bologna lotte all'interno dei porti e si potrebbe proseguire l'elenco bene Deborah Cowen fa un'osservazione che mi sembra molto centrata molto condivisibile dice cioè che per quanto queste lotte siano di fondamentale importanza non dobbiamo pensare che alla centralità della logistica nel capitalismo contemporaneo corrisponda immediatamente la centralità di una forza lavoro logistica tendenzialmente unificata all'interno delle lotte e questo perché ci sono infinite differenze infiniti dislivelli dislivelli di potere infinite gerarchie all'interno di questa forza lavoro è credo una pista importante per l'inchiesta e ancora una volta per la discussione grazie di E...